I cittadini del centro storico di Veroli, esasperati, chiedono l'intervento delle istituzioni e delle forze dell'ordine per mettere fine all'ondata di furto che da mesi va avanti e che sta colpendo una ad una tutte le abitazioni della zona. I ladri continuano indisturbati a mettere a segno furti, i residenti temono anche la propria incolumità e tornano a chiedere maggiore vigilanza da parte delle forze dell'ordine, mentre alla comune di Veroli chiedono di sapere se tutte le telecamere al circuito chiuso del territorio siano attive. Viviamo in uno stato di paura giornaliero, sottolineano i residenti del centro storico Verolano, in preda alle scorribande dei ladri che non ci danno tregua. I malviventi continuano a trovare nel nostro territorio il posto ideale dove agire indisturbati, chiediamo alle istituzioni preposte maggiore tutela e sicurezza.